Bella raga, bentornati a un nuovo fantastico appunto detto qui su FIFA 17 è tantissimo che non vi porto un video e allora bentornati a tutti siamo di nuovo qui con un nuovo fantastico spacchettamento abbiamo ben 8 pacchetti eccoli qua, tutti bei pacchetti, molto interessanti soprattutto perché c'ho uno prime, uno zinco premium, 6 euro, 6 euro, 3 rari ok, pacchetti bellissimi e andiamo a vedere un attimo la squadra della settimana perché è una squadra fantastica ci sono un sacco di giocatori incredibili eccola qui, con cavali mamma mia, vediamo un po' quanto vale vale, vale, vale poi Hazard, vabbè non ve lo dico però perché mamma mia, quanto cazzo vale Hazard quanto cazzo vale e poi varrà ancora di più vabbè Morata cazzo quindi Morata se ci esce a merda ma c'è anche uno gioco per l'attenzione 90 che fa paura anche lui da non sottovalutare di pala 90 cioè ragazzi se mi esce si sboccia proprio alla grande c'è un barrotello di così cosa aspettavo uscisse mamma mia però non ci interessa vale pure poco se non sbaglio mi è uscito ah mi è uscito questo su barriconi che non pare una ceppa proprio di niente ce l'ho ancora tra l'altro perché vale talmente cioè chi se lo compra non se lo compra non ha ancora comunque ragazzi direi che possiamo già iniziare andare a vedere il nostro primo pacchetto cosa c'esce ci siamo ragazzi lo apro di naso vai opla niente workout oro laro ok di fo di fo un 81 vediamo un po' se ci può essere qualcosa di interessante il primo pacchetto è tornato maluccio ma direi di andare ad aprire il nostro secondo pacchetto sperando di scolare e quindi ragazzi non guardo chiudo gli occhi via no niente workout è anche raro infatti male 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 cosa è un po' mezzo trasgressivo manganelli ferretti opa niente di bueno niente di bueno prossimo pacchetto prossimo pacchetto quale mi vado ad aprire direi questo qua pacchetto oro rari che tra l'altro no anzi anzi questo lo voglio aprire per ultimo e voglio aprirmi questo pacchetto giocatori zinco premium che contiene 6 oro 6 argento di cui 3 rari quindi questo è molto buono questo pacchetto infatti me lo porta come primo però io me lo andrò ad aprire adesso via ma è una gioia un workout potente attenzione però perché per Eira per Eira vale qualcosa oddio non è che chissà quanto però vediamo ok sui 3.500 si può vendere comunque anche se vedo che è calato un po' perché c'è stato un periodo che forse lo usavano per alcune sfide e valeva veramente molto quindi direi di andarci ad aprire questo giocatori oro ce n'è solo uno raro sono 10 oro tutti i giocatori quindi andiamo da qui oh mai non volcato ormai ok mai per la sedo potrebbe valere forse per via delle sfide creazione di Swartz vediamo e mi voglio aprire questo con Royce vai vado oh oh vaffanculo c'è stato matta 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 è il mio workout? non è workout non è mai workout oggi sono e avrà di nuovo e avrà di nuovo il terzo che mi esce il terzo alla fine ragazzi quasi alla fine giocatori oro prime io esco rientro e ci avremo oro prime sperando di sculare cazzo almeno un ultimo potente no niente volcatto neanche qua no abbianti io riesco perché non si sa mai tante volte facciamo pure così oh 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 Jesse si scaramanzia walk out tampio un cazzo di walk out e walk out mi dà le bandierine no si il fu walk out il fu walk out mi sento male chi è il celci oh zardo 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 porco due porco due non ci credo no 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 non ci credo porco due c'è ve lo devo far vedere io ve lo devo far vedere c'è azarte 94 vada azarte 94 azarte no e c'è persino tiago motta c'è ragazzi tiago motta in the pack cioè il mio video sarà tiago motta in the pack praticamente non ci credo azarte azarte porco due così trovare azarte random cioè così completi con la sfida con la sfida creazione c'è nel pacchetto sfide creazioni questa era no aspetta i flor rari no si si questo è quello di sfide creazioni cioè confronta prezzo ragazzi non ci credo c'è due milioni due milioni per così a parte avete visto lo stesso che non facevo più video da una vita ma non era neanche un fatto di di abbandono diciamo nel senso che non stavo facendo video per il semplice fatto che in questo periodo ero un po' scazzato sincero così anzi faccio una cosa che non avevo fatto che solitamente sempre facevo mettere un po' di luce ecco perché quando registravo i video fino ad adesso tutto serio dietro il pannello verde cancello lo sfondo e poi accendevo sempre la luce per stare bello luminoso in video e poi invece ho messo il video la telecamera tra l'altro potrebbe anche scaricarsi perché avevo registrato tra l'altro già un altro un altro pack opening precedente dove non avevo trovato un cazzo e ancora devo editarlo quindi forse finì che lo cancello proprio e lo metto proprio un video e ho detto stasera ho detto massimo registriamo quasi non ero manco tanto convinto a dire tutto ho detto mi devo mettere a registrare col microfono lo devo accendere la telecamera e guardate che succede trovi hazard hazard nel pacchetto ragazzi vediamo che formazione ci mette a confronto al nostro avversario ok un'ottima serie A con un belotti e tra l'altro un Mertens e un Salah come ASD Mertens per hazard e vaffanculo e vaffanculo raga e vaffanculo e vaffanculo ok ho ottenuto quello che volevo vaffanculo lo devo segnare con hazard cioè me l'ho rotto veramente vai hazard cazzo confido in te per questa rimonta strepitosa mamma mia hazard quanto sei forte hazard quanto cazzo sei forte hazard quanto cazzo è forte hazard quanto cazzo è forte quanto cazzo è forte hazard ragazzi quanto cazzo è forte hazard mamma mia mamma mia e questo ce lo rivediamo tutto e questo ce lo rivediamo tutto e la voglio Anche vince ragazzo Ci devo provare fino all'ultimo Vi saluto così Vi saluto ragazzi Stasera non avevo neanche in programma Vi ripeto di fare questa Questa registrazione Questo video non facevo da tantissimo È stata una coincidenza Tutti gli astri si sono uniti Tutti in un'unica serata Tutti insieme Vi invito di cuore A lasciare un like Per questo video perché Se lo merita tantissimo Ho trovato Hazard 94 E io per quel poco che magari Qualcuno mi ha potuto seguire Quei pochi video che ho fatto Avrà visto che Non faccio mai Non spacchetto mai Ho spacchettato due o tre volte Ho speso 20 euro Forse esagerando Commentate Lasciate un bel like Condividete il video E fatemi sapere Anche Se magari Vi piace La formazione Come l'avevo fatta Lì C'è la mia serie A 433 Con Hazard Come alla sinistra Alla fine è l'unico Che non è italiano E non fa intesa Quindi effettivamente Dovrei venderlo E prendere Magari Di pala 90 Non so ragazzi Commentate E magari Fatemi sapere Cosa ne pensate Perché Ci tengo molto Ad ascoltare Il vostro Parere Io vi saluto Vi saluto ragazzi Vi mando Un abbraccione Fatemi sapere Magari Anche Quale tipo Di video Vi piacerebbe Vedere Se è un video Carriera Oppure Road to division one Lo continuo Perché l'ho fatto L'ho interrotto Ho continuato Da solo Ero arrivato In divisione tre Poi sono Retroceduto Tra l'altro Mentre non registravo Io vi saluto ragazzi Bella a tutti Purtroppo Senza telecamera Ma Ascoltate comunque La mia voce Bella a tutti ragazzi Ciao Ciao Ciao